buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 18 luglio 2022 questa è la segna stampa di fano tv noi staremo insieme per tutta questa settimana per relazionare su quanto pubblico i giornali al mattino subito per iniziare bene la giornata a partire dal corriere adriatico e il resto del carlino con le cronache locali ma partiamo subito con il tempo e il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia san federico di utrecht vescovo fu molto attivo nella evangelizzazione del popolo friso nel nono secolo ma fu assassinato mentre celebrava la messa dai sicari dell'imperatrice giuditta di baviera di cui aveva pubblicamente condannato i costumi insomma questa imperatrice si era vendicata sul religioso perché insomma veniva svergognata pubblicamente durante le omelie nelle chiese vediamo anche le previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene soleggiato stabile molto molto caloroso diciamo così salvo qualche innocuo cumulo diurno negli appennini il clima è caldo i venti sulle coste spireranno da una direzione da parte dell'est e mentre sull'interno abbiamo una direzione che va da est nord est le temperature sono in leggero calma insomma si mantengono sempre sugli alti valori le minime 21 le massime 26 gradi questa mattina partiamo dal resto del carlino vediamo come la pagina come tutti i lunedì riassume un po' tutte le notizie delle marche infatti abbiamo l'inserto locale dedicato a tutta la regione per quanto riguarda pesaro vediamo subito le notizie che vengono evidenziate albergatori estate tra rincari e bollette ma le tariffe rimangono invariate e questo aumento di spese rimane a carico degli albergatori mentre i clienti potranno pagare le solite tariffe fa un viaggio il giornale tra gli imprenditori alle prese con i costi che sono letteralmente impazziti per l'aumento delle materie prime per l'aumento anche delle utenze cerchiamo di non aumentare i prezzi per tenerci i clienti hanno dichiarato appunto gli albergatori e intanto il comune cerca di agevolare le famiglie più bisognose facendo sconti sulla tassa del prelevamento dei rifiuti ovvero la tari il comune sconto la tari alle famiglie in difficoltà e poi una notizia di cronaca giudiziaria un processo una madre accusa il figlio per maltrattamenti ma il giudice lo assolve non sono state presentate prove sufficienti per una condanna per quanto riguarda le altre notizie a livello regionale segnaliamo una notizia che viene da ancona il porto fa boom un pienone sui traghetti insomma sono quasi tornati ai livelli antecedenti alla crisi alla pandemia i viaggi sull'altra sponda dell'adriatico in croazia in albania in grecia soprattutto e poi ancora lavori agli archi tanti disagi per i commercianti tra strade chiuse e polveri è una notizia che viene evidenziata dalla cronaca di ancona a senigallia invece la movida violenta controlli a tappeto della questura apriamo il giornale sulla pagina pesarese e vediamo subito questa notizia di cronaca che viene sintetizzata in prima pagina una madre novantenne denuncia il figlio mi picchia ha detto al giudice e mi chiude la bocca per non farmi urlare tre testimoni confermano però il giudice non ritiene che siano state presentate prove sufficienti per condannare il figlio e lo ha assolto accusato di picchiare la madre novantenne finisce a processo per maltrattamenti ma per il giudice le prove non sono sufficienti è accaduto a un pesarese di 66 anni figlio della vittima che si è visto assolvere dai pesanti addebiti il pm maria letizia fucci aveva chiesto due anni di reclusione ma il giudice il guppe francesco messina ha ritenuto che non ci fossero elementi d'accusa come abbiamo detto solidi e convincenti per arrivare ad una condanna insomma anche se la testimonianza della donna è stata realistica diceva appunto che il figlio la maltrattava il figlio invece ha ribadito che si trattava di normali liti di famiglia e quindi la cosa è stata risolta come abbiamo detto tari esentate le famiglie fragili ovvero le più bisognose il comune di pesaro sconta tre rate su quattro la condizione è che abbiano un ise fino a 15 mila euro oppure se sono numerose fino a 22 mila euro la tassa per i rifiuti latari non peserà sulle tasche di tutti e il comune di pesaro offre quest'anno l'esenzione di tre rate su quattro alle famiglie con ise sotto i 15 mila euro la giunta comunale ha deciso già di eragare il contributo straordinario per le famiglie colpite dalla crisi e ce ne sono parecchie perché veramente ormai sono sempre di più coloro che per una ragione o per l'altra o per la pandemia oppure per l'aumento delle utenze oppure perché non riescono più ad avere un introito uno stipendio adatto per far fronte a tutte le spese più necessarie ecco che appunto potranno godere di questo sconto sulla tari coppe al la coppe di villa fastigi dona dei defibrillatori serviranno ad insegnare le pratiche del pronto soccorso e nella sede della cooperativa di consumo di villa fastigi si è svolta con la presenza del presidente walter colonesi e del presidente dell'ente del terzo settore il dottor umberto gnudi ricordate questo nome la donazione di materiale utile alla formazione sanitaria di personale laico si tratta di materiale consistente in alcuni manichini per il training nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare e poi di un defibrillatore semiautomatico anch'esso utilizzato per lo stesso scopo sono strumenti che oltre a formare appunto il personale di pronto soccorso può essere utile anche in qualsiasi caso di emergenza i defibrillatori appunto vengono sempre più estesi poi vedremo anche anche come nella città di fanno il loro numero sta per aumentare ed ora veniamo alle notizie degli albergatori che lamentano un considerevole aumento dei costi albergatori tra bollette impazzite e prezzi fissi paolo campagnoli dell'hotel mare dice è aumentato tutto ma non lo dice solo lui però non ho toccato le tariffe guadagno poco ma tengo la clientela così ha dichiarato vediamo qualche esempio soltanto la lavanderia è aumentata del 10 per cento e appunto la lavanderia nella gestione di un albergo pesa al quanto le bollette sono aumentate del 30 per cento nonostante siamo rimasti chiusi e ci siamo trovati con 26 mila euro a pagare per i mesi di gennaio ad aprile quando l'albergo era chiuso ebbene le utenze ugualmente hanno continuato ad aumentare ci troviamo tra due fuochi ha detto un operatore quelli dei contratti firmati l'anno scorso e quello degli aumenti di quest'anno ovviamente le condizioni dell'anno scorso erano diverse da quelle di quest'anno abbiamo però cercato di non alzare troppo i prezzi per non allontanare la clientela abituale ma sarà un'estate difficile così hanno dichiarato appunto gli albergatori e a proposito di vacanze non cesseremo mai di invitare i bagnanti turisti ad usare molta prudenza nel momento in cui si tuffano in acqua vanno in mare e rischiano di affogare botte alla festa butta fuori in questura in questo articolo il resto il carlino assomma diverse notizie ma soprattutto sono quelle che invitano ad usare un certo comportamento molto prudente quando uno si tuffa in acqua un trentenne pakistano ha rischiato di annegare ieri alle 13 30 ai bagni arcobaleno sotto il monte ardizio dopo essere entrato in acqua col mare grosso ebbene ieri c'era ancora vento c'erano le onde che si infrangevano con una certa violenza sulla battigia ma nonostante questo il mare lo vediamo qui in questa fotografia era pieno di gente che si era era in acqua ebbene in questa foto vediamo che l'acqua è molto bassa ma basta poco per poi allontanarsi allontanarsi in un'acqua che diventa pericolosa il pakistano è stato fatto oggetto di un massaggio cardiaco e poi un'altra ragazza al lido delle poste è stata riportata riva dai bagnini perché annaspava un altro un altro caso di soccorso si è verificato a torrette di fano di fronte all'hotel playa un nuovo non riusciva a tornare a riva ma è stato poi soccorso dai bagnini era una spiaggia libera dai però il servizio di soccorso era ugualmente presente è stato portato arriva dai bagnini che hanno faticato a raggiungerlo anche loro a rischio della loro sicurezza fanno dei cesari vince la volpe ieri la grande manifestazione che ha concluso quattro giorni di ritorno all'epoca romana nella città della fortuna con la grande manifestazione che si è svolta in centro storico in modo particolare al pincio trasformato in un circo quindi in una grande arena dove si è svolta la costa delle bighe ma anche una grande partecipata parata di gruppi storici e è una passeggiata diciamo così una sfilata di persone appartenenti alle varie fazioni della città ai vari quartieri della città a vincere con una corsa molto animata è stata la fazione della volpe che rappresenta rispettivamente diversi quartieri della della città e vediamo che ha prevalso sugli aurighi del delfino è stata una corsa così molto molto partecipata comunque lo spettacolo è stato particolarmente intenso per circa tre ore e il pincio è stato riportato ad un'immagine di duemila anni fa con grande partecipazione del pubblico e poi vediamo ancora la polemica scaturita da una fotografia ritratta di alcuni personaggi a cena di diversa estrazione diversa rappresentanza politica e istituzionale ebbene avevamo una cena con i cinque stelle avevamo la cena stessa con l'assessore alla alle aziende municipalizzate alle aziende insomma partecipate dal comune samuele mascarin e poi c'era il capogruppo di noi giovani e edoardo carboni c'era il dirigente celani insomma chiedo il ritirio delle deleghe al dirigente dice edoardo carboni della lista noi giovani che appoggia il sindaco seri che interviene appunto per la foto che è stata pubblicata ma ovviamente ciascuno è libero di cenare con chi vuole almeno dopo il lavoro stasera un concerto dell'accademia rossiniana a pesaro che chiude oggi 18 luglio alle 20 al teatro sperimentale appunto la 34esima edizione dell'accademia rossiniana alberto diretta dal sovrintendente del roff ernesto palaccio e sostenuta dalla fondazione meuccia severi ebbene una iniziativa questa che ha così destato una grande partecipazione di pubblico e veniamo ora alle notizie un po più estese allarghiamo il panorama a livello regionale e vediamo come in Ancona il porto ottiene un vero e proprio boom assalto alle navi insomma la gente comincia torna ad andare in vacanza 22 mila passeggeri in transito nel fine settimana 22 mila pieni traghetti per la grecia l'albania e la croazia quasi 3 mila i croceristi della msc i dati di fine settimana parlano appunto di oltre 22 mila passeggeri a bordo dei traghetti e 2600 croceristi da oggi in avanti fino al primo fino al primo fine settimana di agosto lo scaladorico sarà letteralmente secondo le previsioni preso d'assalto da una marrea di cittadini di vacanzieri che vogliono varcare l'adriatico ebbene con un viaggio di non molte ore si raggiungono delle coste al di là del mare che sono veramente molto belle la città in cantiere parliamo di Ancona agli archi e caos e polvere i gestori dei locali costretti a destreggiarsi tra le ruspe tra tutti i macchinari addetti ai lavori un marciapiede accorciato per far spazio alla ciclabile ritardi in via 29 settembre e anche qui alcuni cittadini lamentano dei disservizi a questo punto possiamo prendere il corriere adriatico a partire dalla pagina di fano dove l'apertura è dedicata proprio alla fano dei cesari gloria di roma e popoli sottomessi popoli sottomessi era l'argomento con il quale dovevano destreggiarsi le fazioni che hanno partecipato alla sfilata finale che si è svolta ieri nel centro storico di fano sotto l'arco d'augusto sfila veramente la storia emozionante spettacolo al pincio appassionante la sfida tra le fazioni della corsa delle bighe ebbene di potremmo dire che è stata emozionante e spettacolare pur sapendo che è un gioco è perché non è proprio una gara agonistica vera e proprio ebbene pur sapendo che è un gioco la corsa delle bighe riesce sempre a coinvolgere il pubblico grazie all'impeto della gara perché poi gli aurighi ce la mettono tutta almeno così sembra e grazie anche al contesto scenografico in cui l'evento si svolge perché il pincio la zona archeologica tra le mura romane l'arco d'augusto anche il bastione delle nuti anche se è stato costruito in epoca successiva comunque contribuisce a dare un aspetto suggestivo a tutta la scena ebbene fanno uno spettacolo che in altre sedi non si vede e questo lo hanno documentato anche i gruppi storici e 350 figuranti sono giunti un po da tutta italia e sono avvezzi a partecipare a queste manifestazioni ma fanno hanno detto costituisce una cosa particolare per spettacolarità per suggestione per partecipazione di pubblico vediamo le altre notizie un giovane in difficoltà tra gli scogli qui si parla in modo particolare del salvataggio che è stato attuato a torrette nella spiaggia libera vicino all'hotel playa una tragedia sfiorata perché quella persona che era in difficoltà si è trovata tra il varco tra due scogliere e si stava riproponendo quello che purtroppo è avvenuto il sabato precedente nella spiaggia di Gimarra dove hanno perso la vita un papà e un bambino di otto anni ebbene questa volta per fortuna la cosa si è risolta bene comunque tra i varchi nei varchi tra le scogliere esistono delle correnti che provano delle buche in modo che se qualcuno si sta allontanando pur toccando il fondo a un certo punto non tocca più e si trova in difficoltà poi ieri il vento il moto ondoso le correnti hanno reso difficile anche il salvataggio tanto che i bagnini che si sono precipitati in mare per salvare questo turista era un turista umbro che aveva che stava facendo il bagno non solo hanno dovuto lottare contro la forza del mare ma hanno rotto un remo e poi un bagnino andando a sbattere contro la scogliera si è ferito anche ad una gamba e lo vediamo qui in questa fotografia con la gamba fasciata eccola qui in questo punto la gamba fasciata si tratta di Leonardo Vampa di Cristian Gramolini e di Cesare Berardi coloro che appunto sono intervenuti per salvare il turista in difficoltà due incidenti ieri si sono verificati nel Fanese auto fuori controllo una carambola sulla strada ebbene si tratta di due macchine dello stesso tipo che sono state coinvolte in due diversi incidenti si tratta di due Dacia Duster il primo incidente si è verificato sulla strada provinciale 92 quella di Cerbara quasi al limite del confine tra il comune di Fano e il comune di Cattoceto insomma non molto lontano da Lucrezia ebbene era notte tra notte tra sabato e domenica l'auto imboccando il ponte sull'autostrada al certo punto non ha più tenuto la carreggiata e l'autista si è visto andare a sbattere andare fuori strada ha sbattuto contro il guardrail il guardrail poi ha carambolato la macchina si è ribaltata e l'uomo è stato estratto proprio dai vigili del fuoco che sono intervenuti anche per mettere in sicurezza la strada dato che la macchina era alimentata GPL poi è intervenuto anche il 118 e ha trasportato il ferito è un uomo di mi sembra 39 anni e lo ha trasportato al pronto soccorso l'altro incidente invece si è verificato nel pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Fratelli Zuccheri e via Battistoni all'altezza del ristorante Cruiser in questo caso sono stati coinvolti sempre una Dacia Duster condotta da un 76enne di Colli al Metauro ed uno scuterone 125 onda condotta da un 31enne ugualmente di Colli al Metauro ovviamente la peggio l'ha avuta il 31enne che a seguito dell'urto è caduto ed è stato soccorso poi dal 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso di Fano a terre rovaresche vandali ragazzini senza freno imbrattati anche muri privati è un fenomeno accentuato questo a terre rovaresche ma anche in diverse altre località l'esasperazione corre sui social ci sono proteste di gente che è stanca di veder lordata la propria città ma anche la propria casa i propri muri da queste scritte vandaliche qui nella foto ne vediamo un esempio si fa sempre più insistente il fenomeno dei giovani protagonisti di atti vandalici un po' qua e un po' là il messaggio di protesta sui social di chi è spettatore è chiaro non è possibile si afferma andare avanti così e imbrattare i muri con scritte vistose ancora una volta abbiamo dovuto ripulire a nostre spese quello che è stato deturpato insomma così non si può andare avanti a mondavio una nuova ala del cimitero è stata costruita con 240 loculi si tratta di una opera realizzata con i soldi incassati con la prevendita appunto dei loculi è un mutuo sottoscritto dal comune tra lavori in fase di conclusione e altri in partenza si è tenuta la benedizione della nuova area del cimitero di mondavio con il sindaco mirco zenobi e poi altri interventi come quelli dei parroci don michele giardini e donne luciano un importante lavoro da 440 mila euro detto il sindaco che è stato portato a buon fine e vediamo anche la pagina di senigallia troppo alcol sviene in spiaggia una ragazzina minorenne la folla intanto continua a festeggiare il party di compleanno va avanti fuochi d'artificio nessuno bada questa ragazzina che si era sentita male probabilmente per aver ingerito troppo alcol la giovane è stata poi ricoverata però i fuochi d'artificio la baldoria ha continuato ad andare avanti per festeggiare appunto la domenica vediamo anche le pagine regionali che trattano di un problema presente un po in tutta e tutta giustamente in tutta la regione in tutte le località si parla del carometano e del gasolio prezzi ancora alle stelle il rischio è quello del blocco totale di un sistema di comunicazione di trasporto a pagare di più gli aumenti delle tariffe il settore appunto dell'autotrasporto che chiede al governo un tetto sui costi così da evitare almeno nuovi rincari ma già i rincari presenti sono molto molto alti gli operatori del comparto sono chiari se la situazione non cambia l'unica possibilità è lo sciopero che paralizzerebbe l'economia perché poi se le merci non vengono trasferite da un punto all'altro si blocca un po tutto ebbene facendo una panoramica nei distributori marchigiani si nota come il prezzo del metano oscilli tra 1,9 e 3,1 euro insomma la differenza è piuttosto notevole quasi 1 euro e 2 1 euro e 20 non è poco pensando che qualche mese fa il metano costava solo 0,9 adesso si arriva anche a 3 e 1 3,1 cioè 3 euro e 10 centesimi insomma è stato veramente una grossa scoppola così si può dire a carico degli automobilisti ma anche le altre le altre fonti di trazione non sono da meno perché il gasolio si aggira tra l'1,8 e 3,3 al litro e anche qui insomma l'aumento è stato considerevole tanto che tante piccole aziende stanno già chiudendo i camion restano fermi gasparoni presidente della confartigianato dice che i 500 milioni di ristoro che sono stati dati alle aziende non bastano ma pensate che gli utenti normali quelli che vanno a metano che pensavano di risparmiare e che non inquinavano non hanno ricevuto nemmeno un centesimo. I sindaci premier resta il coro dei sindaci che dicono a Draghi resta non te ne andare ma è un coro da cui manca il governatore delle Marche Acquaroli Acquaroli ovviamente appartiene a un partito di destra sappiamo come la Meloni insomma vuole andare subito direttamente alle elezioni anticipate e quindi il governatore Acquaroli non ci sta a dire Draghi resta mentre la sindaca Mancinelli dice sì Draghi resta come poi il sindaco di Pesaro e tanti altri comunque Acquaroli insieme ai colleghi del centrodestra dell'Abruzzo e della Sicilia Marco Marsiglio e Sebastiano Musomeci si dissocia da questo coro di inviti. Vaccinato un bambino su cinque al Salesi posti covid esauriti per l'ondata di casi pediatrici anche i bambini purtroppo non sfuggono al dilagare della pandemia e sta colpendo molti molti anziani e ricordiamo che gli ultra sessantenni possono cominciare a vaccinarsi appunto con la quarta dose e per quanto riguarda la pagina di Pesaro vediamo come anche il Corriere Adriatico si occupa della guerra dei decibel nei locali del mare scattano i controlli ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle 20 30 di questa sera con occhio alla notizia questo è tutto a risentirci